Allora, ascoltatemi bene. Io volevo chiedere scusa alle persone che ho insultato su Discord nel mio canale Twitch. Io non so cosa mi sia successo e volevo chiedere scusa, mi vergogno tanto. Io vorrei, 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 diciamo, ricominciare a fare video su questo canale. Vorrei ricominciare a fare video su questo canale, magari in un'altra maniera, senza sciocchezze, false recite, come nel video dei cubetti al formaggio. In senso, io mi sono un po' offeso che la gente mi ha scritto quelle cose, vuoi fare di meglio, eccetera, eccetera. Io lo capisco, avete ragione, ma lì per lì mi ero un po' offeso e, diciamo, ho chiuso tutto, ho chiuso tutto. Ho nascosto il canale. Io vorrei ricominciare. Poi, a voi la parola nei commenti, se mi direte, no, ci stai, ci stai sul cazzo, vattene via, io, bene, vado, lascio il canale così e vado a fare altre cose. E niente. Questo è tutto. Io vi chiedo scusa se sono stato un po' impulsivo. Non voglio più fare dirette su Twitch, perché mi sono comportato male, sono comportato male. Quindi mi vergogno un po', mi vergogno un po'. E niente, vabbè, ditemi voi, poi, se mi insultate, dicendo vattene via, oppure, se mi volete ancora, al prossimo, boh, al prossimo video, forse. Ciao, ciao.